Sono quelli che il Governo ha già annunciato di essere disponibili a fare sin da subito con un atteggiamento costruttivo e responsabile allo stesso tempo perché non si può vendere fumo e non si può continuare a raccontare che si possano regalare soldi senza tenere conto del bilancio dello Stato. Era opportuno intervenire subito per correggere e fermare una macchina impazzita, rimetterla sul binario giusto, dare la giusta dimensione e ridimensionare quindi anche la misura esatta, la misura congrua degli incentivi da fare e le persone e i soggetti che ne avessero davvero diritto e che hanno priorità. In questo senso noi siamo certi per le interlocuzioni già avute con il Governo e con la maggioranza che verranno salvaguardati i diritti acquisiti, le persone che in buona fede, le aziende che in maniera trasparente hanno aderito a una legge dello Stato e hanno oggi i crediti incagliati, una soluzione per metterne la cessione e comunque la negoziabilità verrà individuata e trovata anche con il contributo delle aziende pubbliche di Stato oltre che delle banche, verrà tutelato il cratere sismico dove c'è una disciplina speciale che verrà assolutamente salvaguardata, le case popolari dove questo intervento risponde a un obiettivo di interesse pubblico assolutamente prioritario, le onlus che sono soggetti deboli, che non hanno altrimenti capacità economica per poter fare interventi di questa natura. Quindi le principali questioni sul tappeto sono all'esame del Governo e della maggioranza, lunedì prossimo si depositano gli emendamenti, entra nel vivo la discussione parlamentare e entro il mese di marzo avremo già un testo in prima lettura che potrà dare maggiore chiarezza e certezze a tutto il settore.